Un faccia a faccia tra i consiglieri comunali per fare il punto della situazione e analizzare ciò che non funziona. Nonostante i voti compatti al mezza barba all'interno del gruppo dei democratici, i bisbigli iniziano a farsi infatti voce forte e distinta. Più di un consigliere del PD avrebbe fatto notare come il lavoro portato avanti fin qui dalla giunta non sia in linea con le aspettative post voto. Per questo la prossima settimana il gruppo consigliare ha organizzato un vertice interno incontro al quale non saranno invitati nel sindaco De Paoli e nemmeno gli assessori. Alcuni consiglieri secondo quanto filtrato nelle ultime ore vorrebbero allargare le esclusioni anche ai due consiglieri della lista civica cittadini per De Paoli e a quelli di matrice non PD, voglia dire Campanella, Magni e Vigna. Nulla a che vedere con le bordate ad altezza uomo partite all'interno di Forza Italia ma pur sempre un segnale politico da non tralasciare. Non è un mistero del resto che la gestione di alcune problematiche e dei rapporti interni consiglieri giunta abbiano creato più di un malumore in questi primi mesi di legislatura. Questioni che saranno messe sul tavolo nel vertice della prossima settimana tra i consiglieri e senza gli assessori per provare ad andare avanti in modo più coeso.